Il dottore Antonello D'Altola, che è presidente del Rotary Club Reggio Calabria Est. Qui il Rotary in prima fila, siamo alla Scuola Media di Merito di Portosalvo, in realtà ci sintetizzi l'iniziativa e gli attori, i protagonisti, che poi sarebbero i ragazzi. In sostanza l'iniziativa parte da un club Rotary Romano, esattamente il club Rotary Roma Est, e l'iniziativa ha preso il nome, va sotto il nome di Etica e Legalità. A questa iniziativa hanno partecipato poi via via molti dei club italiani, quindi si è diffuso in campo nazionale. Il nostro governatore ha molto voluto che noi partecipassimo a questa iniziativa sull'etica e sulla legalità, per cui noi già da due anni stiamo partecipando. Abbiamo avuto, come avete sentito, dei buonissimi risultati, perché l'anno scorso siamo stati sul podio con una scuola sponsorizzata da noi, che è l'istituto comprensivo San Giorgio Morgeto, città nuova San Giorgio Morgeto, che ha vinto un terzo posto con una fotografia fatta da un'alunna. Mentre quest'anno addirittura abbiamo vinto il primo premio, che in campo nazionale è un'ottimissima affermazione, con una bellissima foto che spiega in modo eloquente cosa è il bullismo. Questa mattina c'è un primo premio al concorso nazionale di Roma, e quindi è l'istituto comprensivo di Amicis, dove c'è il dirigente Nastasi, abbiamo visto molto interessato a questo genere di iniziative. Sì, non ho capito la domanda. Questa mattina c'è il primo premio al concorso nazionale di Roma, no? Sì, il premio è già stato dato ai bambini, ai ragazzi a Roma, che adesso si celebra in loco. La celebrazione del primo premio, perfetto. Sì, è questa in sostanza. Avete trovato, dicevo, l'adesione del dirigente scolastico di merito. Vediamo che in sala ci sono moltissime autorità, anche politiche. Da assessori, sindaci, c'è Bernardo Russo, sindaco di San Lorenzo, c'è sindaco di merito Meduri. L'ispettore capo della Polizia Postale, che col cyberbullismo ha molto da fare. Diciamo che il Rotary Club nostro, il Rotary Club Reggio Calabria Est, ha deciso già dall'inizio, quando siamo stati fondati, di lavorare nelle scuole. Perché crediamo che sono proprio i ragazzi a poter essere plasmati, a poter essere guidati sui valori dell'etica, della legalità e anche del service, perché noi, dopo tutto, siamo sempre un club service. E i ragazzi, come si può vedere, hanno risposto bene e sono stati molto capaci. Tra l'altro, noi abbiamo fatto tante iniziative su diverse scuole in tutto il territorio, che grossomodo è tutta la provincia di Reggio Calabria, anche se noi diamo una particolare cura alla zona est, alla zona ionica. Diciamo pure che tu, essendo di merito di Portosalvo, hai voluto questa manifestazione, non a caso a merito di Portosalvo. Sì, però, Melito, la scuola di Amici 6 ha vinto, è quella di Melito, quindi l'anno scorso è stata celebrata a San Giorgio Morgeto. Che volevo dire? Abbiamo tanto lavorato con le scuole, tra l'altro abbiamo anche istituito quest'anno un club Rotary che si chiama Interact, dei ragazzi che hanno partecipato molto, molto, molto eccitati da questa situazione, interessati al service. che noi abbiamo preparato grazie a Gina Scorto che ha fatto un lavoro capillare di preparazione prima di proporre questa cosa ai ragazzi, ed è stata a buon fine. Tra qualche giorno noi avremo la consegna della Magna Carta che ci darà questa bellissima cosa che è un Rotary fatto da ragazzi.